Sono Giuseppe Vanizza e partecipo al progetto Esprime di Terranè, curato da Cosmo. Partecipo con un progetto sulla trasformazione della destinazione d'uso delle masserie in Puglia, che da centri di un passato sistema agricolo stanno entrando nel sistema del turismo d'elite e le tracce sociali di questo cambiamento. Il progetto è molto bello perché io sono di Fasano, in provincia di Brindisi, sono nato là. Il legame col Mediterraneo e col mare è una cosa che sento nei posti dove mi trovo a vivere o a lavorare. Grazie.